Carpitalis 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 secondo me è un'occasione per vedere amici o conoscenti che non si vedono da molto o comunque un'occasione per vedere e toccare con mano tutti i prodotti che le varie dite hanno da esporre. Noi nel negozio Tempolibero in concomitanza con Nash disponiamo di un'enorme area espositiva dove diamo la possibilità al pescatore di conoscere e toccare tutti i prodotti che abbiamo esposti all'interno del nostro stand. Inoltre grazie a un personale dei tester qualificati ci rendiamo disponibili per rispondere a ogni domanda che il pescatore ci pone. Perché hai scelto a Carpitalis Tempolibero? Ma guarda sinceramente perché la qualità e il prezzo è stata molto conveniente. Sono cliente da anni, mi trovo bene e sono venuto a trovarli anche in fiera. Mi sono sempre trovato bene, gli ordini sono sempre arrivati puntuali e c'è tutto. Sicuramente per la professionalità e per la scelta, cose che da altre parti si fa fatica a trovare. Anche quest'anno per il Carpitali all'interno dello stand Negozio Tempolibero di Monzambano siamo riusciti ad ottenere e ad avere la partnership con il colosso francese Starbite Italia. Molte le novità quest'anno, tra le quali il mulinello Tron, le GLM Marine. Vi aspettiamo tutti quanti numerosi. Buon Carpitali a tutti quanti! Quest'anno al Carpitali, come ormai da 13 anni a questa parte, siamo partner di Tempolibero. Tempolibero è il nostro grande, importante punto di riferimento in tutta Italia. Offre una vastissima gamma di prodotti Nash, anzi tutta la gamma di prodotti Nash, qualità e servizio e semplicemente anche ottimi prezzi, che in questo periodo sinceramente non guasta. La nostra presenza al Carpitali ci permette di essere competitivi sia in negozio sia sul nostro sito online durante tutta la stagione. Ringrazio tutti coloro che sono riusciti a venire a visitarci in questi giorni, che ci hanno ripagato di tutti gli sforzi umani ed economici che sono stati necessari per realizzare questo stand molto grande e pieno di articoli. quasi come fosse un negozio in fiera. Ora vi aspettiamo presso il nostro negozio di Mon Zambano, in provincia di Mantua, mentre per i più lontani potete trovarci online sul nostro sito tempolibroshop.it Grazie. 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 Grazie.